Ciao ragazzi, da un paio di settimane sta circolando una clamorosa notizia che potrebbe sconvolgere il mercato invernale e cioè che Ibrahimovic si sarebbe stancato del calcio americano, dell'MLS, e stia cercando una nuova squadra. Ibrahimovic è in scadenza a fine novembre e ha detto che rivelerà il suo futuro soltanto dall'inizio di dicembre. Quindi lasciando questo alone misterioso, nel frattempo c'è il suo agente Mino Raiola che gli sta cercando una nuova squadra. Ora, non è poi cosiddetto che lasci la MLS, nel senso che il Los Angeles Galaxy dove sta giocando pare che gli abbia offerto un contratto di 7 milioni per un paio di stagioni. E Raiola ci stia pensando su questa cosa, ma nel frattempo sta cercando una nuova squadra perché Ibrahimovic vorrebbe tornare a giocare nel calcio che conta. Ora, possiamo parlare mezz'ora sul fatto che un attaccante come lui a 38 anni possa essere ancora decisivo. C'è anche da dire che lui non vorrebbe squadre di basso livello perché in Serie A, secondo me, metà della Serie A lo prenderebbe al volo, ma lui sembra che voglia squadre che comunque competano per vincere uno scudetto o una coppa. Ora, andiamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le sue prossime destinazioni. Partiamo dall'Italia, perché è quella che più ci appassiona. Ora, è stato accostato a lungo e ancora se ne parla, leggevo proprio ieri il Corriere dello Sport che parlava del probabile arrivo di Ibrahimovic al Bologna. Questa sarebbe una bella operazione se non fosse che Ibrahimovic, come avevo detto prima, vorrebbe una squadra che possa competere per lo scudetto, o comunque per vincere un'Europa League o qualcosa del genere. E il Bologna è fuori da qualsiasi corsa, a qualsiasi trofeo. Poi c'è il punto di vista economico. Ibrahimovic vorrebbe 8 milioni per un anno e mezzo. E per il Bologna tirar fuori questi soldi non sembrerebbe cosa facile. Anche se il padrone del Bologna ha saputo i soldi, ce li ha, perché ce li ha, dovrebbe trovare un pool di sponsor e investitori per riuscire a portare Ibrahimovic a Bologna. Poi, tolte queste due cose, c'è il lato umano. Perché pare che Mialovic l'abbia chiamato diverse volte e che Ibrahimovic gli abbia detto che se non trova una squadra da scudetto, il Bologna sarebbe la sua prima scelta in Italia. Però staremo a vedere. Io ho molti dubbi sul fatto che questa cosa si possa concretizzare, anche se ovviamente da tifoso del Bologna mi piacerebbe molto. Si è letto anche che Ibrahimovic si sia proposto alla Juventus, ma che la Juventus abbia rifiutato. Anche perché la Juve è già piena zeppa di attaccanti. Pensate che Mantukic l'ha tenuto praticamente fuori rosa finora, figurati se vanno a prendersi Ibrahimovic con tutto quello che comporta Ibrahimovic. Perché adesso, al di là dell'atto economico, che qualsiasi big pagherebbe quell'ingaggio tranquillamente, c'è anche l'aspetto della personalità molto forte di Ibrahimovic. In uno spogliatoio già pieno di leader, Ibrahimovic potrebbe stridere. E inoltre c'è il fatto che Ibrahimovic non verrebbe a fare il panchinaro. Poi ci sarebbe il Milan, l'opzione Milan. Ora, c'è da dire che il Milan è fuori dalle coppe, non lotta per lo scudetto, per cui diciamo che queste due cose qua già potrebbero convincere il campione svedese a non andarci. Però c'è anche la componente del suo affetto verso il Milan, perché è la squadra in Italia con cui ha giocato di più, con cui ha vinto di più. Io però non credo che questa cosa si concretizzi, perché il Milan, anche se stanno cercando un po' di mascherare la cosa, ha dei forti problemi economici. Deve rientrare nel suo fair play finanziario di un tot di milioni, adesso non mi ricordo. Si parla di cedere dei giocatori a gennaio, poi dicono di no, magari quest'estate. Non credo che si vadano a sobbarcare il suo ingaggio, a meno che non vendano un qualche big quest'inverno, e allora sì, se lo potrebbero permettere. Poi andiamo anche a vedere l'Inter. L'Inter, io ce lo vedrei molto bene nell'Inter, anche se mi è sembrato di aver letto da qualche parte che l'Inter abbia detto che non gli interessa il Brainwitch, però se vedete l'Inter in attacco ha una rosa ridotta all'osso, perché di fatto c'è Lukaku, che è l'unica punta forte fisicamente, e poi a fianco a lui si alternano Lautaro e Politano. Alexis Sanchez è infortunato, chissà quando torna, poi Esposito è molto giovane, per cui ancora non è stato lanciato. Diciamo che Ibrahimovic potrebbe trovare dello spazio in questa Inter. Non so se sarebbero in grado di coesistere Lukaku e Ibrahimovic insieme, in formazione, cioè giocare insieme tutti e due. Li vedo più alternativi l'uno all'altro, però sicuramente avrebbe del gran minutaggio Ibrahimovic in questa Inter, oltretutto che l'Inter è ancora in Champions ed è ancora attivo nella lotta allo Scudetto. Però bisogna vedere perché i dirigenti dell'Inter sembra che abbiano detto che non sono interessati al giocatore, per cui si vedrà. Poi ci sarebbe il Napoli di De Laurentiis, che diversi giornali lo danno come il più quotato a prenderselo. Un paio di settimane fa vi avrei detto che secondo me Ibrahimovic al Napoli non sarebbe mai arrivato perché Napoli ha un attacco spropositato, ha un numero di attaccanti spropositato e tutti attaccanti forti, per cui Ibrahimovic lì in mezzo ruberebbe del minutaggio a qualcuno e per cui non ci sarebbe posto per lui. Però dopo tutte le vicende che ci sono state, l'ammutinamento dell'Aurentis che parla di dar via dei giocatori, eccetera, non si sa mai che a gennaio non parta Mertens e al suo posto arrivi Ibrahimovic. Poi il Napoli giocherebbe con Milik e Ibrahimovic là davanti, a sinistra dietro con quel 4-4-2 in senior, poi si possono alternare, c'è Lozano, eccetera. Diciamo che Ibrahimovic io al Napoli ce lo vedrei abbastanza bene. Napoli in fondo è ancora in corsa Champions, è fuori probabilmente dalla lotta a Scudetto ora. bisogna vedere da qua a due mesi quanti punti farà il Napoli perché ora è messa un po' male, però comunque è una squadra di primo livello italiana. Poi c'è un'altra suggestione che gira in Italia e che a me piacerebbe molto, la Fiorentina. Comisso i soldi per prendere Ibrahimovic per dargli quell'ingaggio ce li avrebbe, sicuramente ce li avrebbe. Dovrebbero solo convincere il giocatore perché ora la Fiorentina non gioca coppe, la Fiorentina non è in corso a Scudetto, però l'anno prossimo chi lo sa. Se quest'anno facesse un bel piazzamento da Europa League e Comisso continuasse a investire in questa squadra come sta facendo, perché gli va dato atto questo, non si sa mai che l'anno prossimo non lotti, almeno per vincere l'Europa League. Non dico lo Scudetto, forse è ancora indietro, però l'Europa League potrebbe giocarsela con alcuni innesti l'anno prossimo. Chiaro che è da rivedere un po' la difesa e un po' il centrocampo, però immaginatevi un attacco con Ribéry, Ibrahimovic punta e chiesa a destra. Cioè è un attacco fenomenale secondo me, però bisogna vedere sempre le motivazioni di Ibrahimovic e sempre se non riescano a convincerlo a rimanere in America. Poi ci sono la pista cinese e la pista degli Emirati Arabi, però io al momento li escluderei perché io credo che Ibrahimovic si sia un attimo seduto e si sia fermato a riflettere sul fatto che è un paio d'anni che gioca in un campionato che non è chissà che cosa. Anche lui si è lamentato delle difese che ci sono in America e dice che sono molto scarse. Forse lui dice, vabbè, nel tutto, forse una qualche squadra in Europa che mi dia una chance, una squadra di primo livello, la posso ancora trovare. Magari lui pensa, ho 38 anni, è la mia ultima occasione per giocare in un campionato che conta, mi faccio un altro anno, anno e mezzo poi, in un campionato di livello e poi magari posso sempre andare in Cina a 40 anni perché se lo prendono, pensate che non se lo prendano in Cina a 40 anni, se lo prendono. Chiaro che Ibrahimovic smuove soldi oltre a essere un giocatore che aiuta sicuramente, è un giocatore che dietro ha una serie di sponsor, ha un ritorno mediatico in televisione eccezionale, quindi sarebbe una gran pubblicità sia in Cina che negli Emirati Arabi, però al momento vedrete che là non ci andrà. Poi andiamo a vedere in Premier, io ho letto la notizia che sarebbe pronto un suo clamoroso ritorno al Manchester United, dove ha vinto molto e dove ha giocato tanto, però c'è da dire che l'ultima stagione al Manchester, vuoi un po' perché era infortunato, vuoi perché la squadra stesse girando Maluccio non gli è andata tanto bene. Allo United non c'è più un rigno e lo United comunque un certo attacco ce l'ha, al massimo potrebbe prendere il posto di Martial, però il Martial è lanciato anche se quest'anno non sta andando proprio da dio, però magari si potrebbe prendere il suo posto al Manchester United, però anche letto una secca smentita dello United sembra che non sia interessato al giocatore. Certo che lo United che sta andando male in campionato sta andando però molto bene in Europa League, per cui comunque potrebbe essere una squadra attraente per i Brimovic, anche se credo che non voglia andare in Premier, ma è una sensazione mia personale. Si è addirittura parlato di un suo ritorno in Svezia, ma tornare a giocare in Svezia per lui sarebbe probabilmente peggio che giocare in Cina o in America, perché i soldi che gli danno là in Svezia probabilmente non riuscirebbero a darglieli, e poi è un campionato quello svedese che probabilmente è peggio di quello americano o cinese in questo momento, per cui non credo proprio che vada in Svezia. Penso che al limite, proprio al limite ci possa ritornare come allenatore prima o poi, magari al Malmo, questa squadra che l'ha lanciato, però non credo che adesso vada ora andiamo a vedere la pista quella più probabile che sembra portarlo alla Spagna. Lui stesso ha fatto un post in cui diceva Spagna indovina sto tornando e ha lasciato tutti un po' così, anche se lui comunque ha detto che il suo futuro lo svelerà tra un paio di settimane all'inizio di dicembre, per cui in Spagna ci sarebbero quattro possibili candidate. La prima è il Valencia. Il Valencia ora sta lottando per arrivare in Europa League nel suo campionato, però sta andando bene in Champions, stranamente, no? E diciamo che bisogna vedere se il Valencia ha la portata economica per prenderlo. Certamente lì lui sarebbe un leader. Poi, si è parlato anche di un suo ritorno al Barcellona, al Barcellona dove probabilmente è la squadra dove lui inaspettatamente è andato peggio in tutta la sua carriera. Io credo che al Barcellona è la squadra dove si sia trovato peggio. Non si trovava con gli schemi, era difficile giocare con Messi dietro per lui perché doveva girare in un certo modo per cui non credo che sia cambiato il modo di giocare del Barcellona, almeno non più di tanto perché comunque ci sono sempre Messi le ali che gli girano attorno, una punta e diciamo che Suaref sta andando molto bene e non credo che lui riesca a prendere il suo posto. Per cui non penso proprio che vada al Barcellona. C'è anche Real Madrid. Real Madrid che un'operazione del genere potrebbe portarla in porto perché dal punto di vista economico per loro non sarebbe niente spendere quei soldi per Ibrahimovic. Il fatto è che Ibrahimovic non vorrebbe fare il panchinaro e Benfema quest'anno sta andando veramente da Dio per cui non lo so se lui riuscirebbe a trovare posto in questa rosa. Oltre tutto che Real Madrid è già una rosa piena di leader. Bisogna vedere se lui potrebbe anche integrarsi dal punto di vista caratteriale. Ora andiamo a vedere quella che secondo me è la sua destinazione più probabile. Quella su cui io quasi ci scommetterei pure sopra. Sto parlando dell'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è in corsa per lo scudetto ed è in corsa per la Champions League. È una squadra che sta andando bene ma a cui servirebbe un rinforzo in attacco. voi perché volevano vendere costa a questi stati che pure adesso sta andando bene. Voi perché Simeone comunque ha detto che ha bisogno di un rinforzo là davanti per avere qualche scelta in più nelle sue rotazioni e Ibrahimovic in questo potrebbe andare da Dio. Tra l'altro lui conosce già Simeone e secondo me questa cosa potrebbe aiutare. Dal punto di vista economico non ha problemi l'Atletico Madrid a pagare gli 8 milioni che chiede per un anno e mezzo. Poi comunque pensate che è una squadra che gioca su più competizioni se non fosse sempre sempre titolare potrebbe comunque accettarlo lui anche se credo che lui il posto da titolare se lo conquisterà molto presto. Ragazzi piccolo aggiornamento visto che il video l'avevo registrato ieri ci sono già delle novità pare che Ibrahimovic abbia di comune accordo col Galaxy deciso che è finito il contratto non rinnoveranno poi dopo vai a sapere se non cambieranno le cose nel caso che Ibra non trovi un'altra società gli è stato chiesto del fatto che si è parlato di un suo possibile ritorno all'Ajax e lui ha detto che non gli interessa tornare all'Ajax quindi anche la pista olandese è scartata però nelle ultime ore ho letto che pare che sia interessata la Roma su Ibrahimovic e vi dirò che io glielo vedrei bene alla Roma Ibrahimovic però dovrebbero cambiare un po' lo schema perché non puoi tenere giù Dzeko che tra l'altro è molto in forma per tenere titolare Ibra dovresti giocare con due punte quindi la cosa di tenere i tre trequartisti dietro verrebbe un po' sconvolta probabilmente passerebbero a una specie di 4-4-2 con i due esterni un po' più offensivi più messi in avanti insomma però sono tutte voci sapremo la verità tra un mesetto circa ora io so che non vi ho potuto dare una destinazione certa perché non lo sa lui figurarsi se lo so io credo che non lo sape neanche Mino Rayola in questo istante che è il suo agente però diciamo che vi ho dato tutte le sue possibili destinazioni di cui parlano i giornali ora ti chiedo lasciami un commento e dimmi secondo te dove andrà a giocare Ibrahimovic a dicembre volevo ringraziare tantissimo Glider Massi per la sua donazione che mi ha fatto su Paypal grazie davvero tanto Massi grazie perché è anche grazie a te che questo canale va avanti ora se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like ed iscriverti al mio canale grazie a te grazie a te